Guarda! Coro velocissimo! Super veloce! Super veloce! Super veloce! Trova il tiro! E' uscito il mio secondo video sul canale di MegaWow Vi lascio il link in descrizione, andatelo a vedere Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo Foot su Fit19 Esatto! La nostra ultima partita con il giocatore Maradona! Ma Cristian, prima di iniziare, diamo un'occhiata all'app OneFootball per vedere quali sono le prossime partite delle nostre squadre preferite L'app di calcio che abbiamo scaricato sul mio cellulare sulla quale riusciamo a conoscere in anteprima tutte le notizie di calcio dei trasferimenti estivi, degli acquisti, delle vendite e anche le date e gli orari delle partite di calcio delle nostre squadre preferite Vi lasciamo il link in descrizione per scaricare questa app Qui ci sono le notizie Guarda, vediamo cosa dice questo Il mercato in TV, il dilemma Naigolan, novità su Dybala Lo sai che Dybala lo vogliono dare via in cambio di Lukaku alla Juve? E perché? E non lo so, sono questioni di mercato Vediamo quali sono le partite di domani Guarda, l'International Champions Cup Manchester United vs Milan Quando la fanno? Il 3 agosto dobbiamo fare il gameplay Va bene Tutte queste notizie le sappiamo in anteprima dall'app OneFootball Lasciamo il link qui in descrizione per scaricarvi l'app di OneFootball Perfetto, allora possiamo iniziare con il nostro gameplay di FIFA 19 Foot Splash Nostra ultima partita con il giocatore Maradona che avevamo in prestito A me dispiace perdere Maradona Splash Non so perché una volta Maradona quando era ancora in campo Ha fatto con la mano cross Ha fatto un gol con la mano E' il famoso gol con la mano di Dio di Maradona Te l'hanno raccontato a scuola? No, io ho visto solo la pubblicità che faceva con la mano Ma la spingeva proprio come il cross Si e poi ha fatto pure il gol Dovevo fare X Saltiamo No non c'è la telecronaca Mi sembra che la telecronaca non c'è E quindi la dovrai fare tu Va bene Allora noi siamo gli azzurri chiaro Dai Lo posso? Paletta Si si c'è Ok De Sciglio Lui è uno famoso perché sta nella Juve Tieni William Questo chi è? William Doom? Si Lo conosci? Si sta nel Liverpool Ah Ma sei espertissimo Si Dai passa Mancio chi c'è? No io voglio fare il tiro Ecco Maradona No sei tu Maradona E' vero dobbiamo farlo giocare perché è la sua ultima partita De Sciglio De Sciglio Vai Tieni Nei Maru Nei Maru Nei Maru Vai Passo Manciukic Tiro di Manciukic Noo Ui era Maradona 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 Passa la Maradona La passo lì perché avevo Maradona Dai te la passo Maradona Tiro di Maradona Oh Ha un tiro Fortissimo Allora facciamo giocare su Maradona No non fare finte A me mi dici di non fare finte Dai 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 Oh Vai Ma sono io Si 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 vai Te la ripasso indietro perché mi ero distratto un attimo Paletta E' palo 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 di paletta Palo di paletta Paletta Era anche fuori gioco Forse sta E passamela Questa è una mia tattica capito Oh C'è Maradona Si No Oh Neymar Neymar Io l'ho vista dentro L'ho vista in gol Che la mia squadra si chiama Kree 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 JTV Ah ok L'ho chiamata così la nostra squadra La squadra personalizzata foot Si chiama Kree Kree JTV Maradona Vai Sei Maradona Sei Maradona Palo Coro velocissimo Super veloce Super veloce Super veloce Trova il tiro Oh Palo No Oh Palo vina Palo di Maradona Mamma mia Mi tremava tutto il controller A me no Che poi stiamo giocando a livello campione mi sembra No esperto Ah esperto ok Si ma mangio Kree JTV Perché la mandi fuori? Con la testa Testata Passare agli altri Non Testato Fai gol Se eri troppo lontano A che fai gol Ok l'ho presa Te la ripasso così mi libero Paletta Che ha fatto pure il palo Faccio così Palo di paletta Si È bellissimo Ma dovrebbe essere un'altra Maradona Maradona Prova ad andare su da solo con Maradona Guarda come corre Non puoi andare da solo Guarda come sono attaccati Tiro Oh No 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 Certo che Maradona Ma uno si chiama Rep E' Neymar Te lo dico Oh T'ho fatto il tunnel De Sciglio Vai De Sciglia De Sciglio devi fare un bellissimo cross De Sciglio un bellissimo cross Oh No Calo No 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 Non ho capito niente cosa è successo Vedremo poi Tanto Pepe Reina è il più forte del mondo La passo alta Oh No Si 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 bravo bravo Vai William Oh Non è che ne hai troppi attorno No Vedi come sta correndo tutto da solo Vabbè Eh si ma poi arriviamo lì e ce la fregano Ecco Neymar No Neymar Oh 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 Paletta Corri Paletta Ti faccio correre io Vai Paletta Uh Vai Chi è Maradona 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 No Maradona Cosa fai Dai Dalla Maradona Dalla Maradona Grazie Vado veloce Vai Attento Si ma se ti metti in mezzo Certo Eh ma dribbla un po' vai dritto Come un treno Vai dritto come un treno Adesso ti faccio vedere io Vai dritto come un treno Oh Dai dai Vado gritto come un treno Come hai detto tu Che succede? Fine primo tempo siamo sullo zero a zero Dobbiamo sbloccare il risultato Vado gritto come un treno Come hai detto tu No no dribbla dribbla E mi hai detto tu No non devi andare dritto come un treno E mi hai detto tu Prima Vai dritto come un treno Dai Che ho Maradona Adesso lo faccio arrivare fino là Dai Tanto Maradona ce la fa Ma allora io aspetto anche quanto passa Noo Dai 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 Maradona 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 Eccolo di nuovo Maradona Mamma No no Eri tu eri tu eri tu Non ho visto Che nessuno adesso non può più bloccare Quanto ho la palla No che non sia rigore eh Suspense Suspense Paletta Cos'è? No Gli ha dato il rigore? Ci ha dato il rigore contro Non si capisce Cos'è? No rigore Chi tocca parare? Eh non lo so A te A te Da che parte ti butti? Dai buttati Parala Nooo Dai Dobbiamo recuperare Dobbiamo recuperare O Neymar Dai Io passi si ma se non la passi Ma io te la passo quando sono la vicino Dai Si ma ci metterai un anno Perché se Maradona vai Eh Volevo farti un filtrante con Maradona Dai ce l'hai di noto Neymar E mi ruba la palla Solo perché questo Questo papà Non riesce a passare la palla quanto vuole Quanto gli dico pure passa Sfiltrante Vai 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 Tiro 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 Manzuki L 55 nesimo Vedi che abbiamo recuperato Adesso dovevo fare il 2 a 0 No il 2 a 1 Così si gioca a papà Invece di tenerla Andare avanti Così si gioca E siamo 1 a 1 per adesso Vado 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 Dai comunque C'è Maradona lì Me lo sono passate da solo Come hai fatto a passartela da solo? Io voglio Mettere lì Mi sono passate da solo Cos'hai fatto? Un po' di finte così Dai vai vai Cosa sta succedendo lì? Sembra che si menano Così Dai attento Attento Oh oh no Ah pepereina Beccava anche il palo Ma pepereina è pelato? Mi sembra di sì Spazza Vai pepereina E guarda me l'ha sbagliato anche l'ora Ok No Oh Bravissimo Il nostro portiere Subito il passo Vai 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 Maradona Marcati Dai Pure un giocatore ti ha detto passa Vai filtrante Vai Adesso se la dai a me Filtrante Bravo Ma dove Cross No Però me l'ha passata Bene dai riproviamo Riproviamo Va bene C'è Maradona lì al centro area No non voglio Dai che Maradona Ok E cosa faccio da lì? Faccio un cross E certo Cross Di testa alto Maradona Vediamo Ma ti muovo da solo Sì ma cos'è? Ove togliti Filtrante Maradona Tira Oh Bellissimo Mi sono bloccato Vediamo Poli No Poli Dai metti i poli dentro No i poli si conosce E Io ho fatto un gol una volta con poli Dove sono? Oh Quasi rovesciata Tentato Sforbiciata Sforbiciata Oh No Ma io ero dietro la porta Maradona ha fatto la sforbiciata ma non l'ha presa la parte C'è ha fatto Pan Eh Vai Eh Attenzione Nonno Perché c'è un giocatore lì? Bravo Paletta Nessuno passa paletta Ok Maradona Maradona Filtrante per Christian Con poli Vai Girati e tira Mamma mia Ma quello è il mio nome? Christian In prima carne In prima persona Lasci volate il Cricclicio e tibi Nel cuffa Passa Vai Crossa Aspetta Crossa Da lì non puoi far nient'altro Eh vabbè angolo Angolo Maradona No 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 Non farlo uscire Non farlo uscire Maradona Oh se ci riesce a Cristiano ronaldo In prestito Il mio razio Voglio che E' nostro Eh dobbiamo Aprire i pacchetti Eh questo è fallo Ma cosa qula... Un po' di barbetta Filtrante per Maradona! No! Finito? Finita la... 1-1? Ok, abbiamo perso. No, 1-1, pareggio. E non si va al tempo superiore. Mi sembra che finisce in pareggio. Infatti. Ci danno un punto nella nostra classifica. Ebbè, guadagniamo 412 monete che ci servono per comprare i pacchetti. Abbiamo due punti, per qualificarci dobbiamo arrivare a 11 e passare al livello successivo. Ah! Belotti! Belotti, prendilo! Abbiamo Belotti in squadra! Abbiamo Belotti in squadra! Spero che questo video sia P.A. Ciutto, ciao, anche nel Cringentivio e ciao ciao!